La nostra è una grande equip costituita da tanti specialisti, ognuno dei quali ha il suo ruolo nella diagnosi e nella cura della coppia. Quindi ci sono i medici, i colleghi, ci sono le ostetriche ovviamente, poi anche gli andrologi, gli psicologi, i biotecnologi, i quali ci stanno aiutando con l'intelligenza artificiale a selezionare persino gli ovociti prima che diventino embrioni.